Buonasera a tutti, ben ritrovati. Siamo arrivati al giorno 22 del percorso Costruiamo le fondamenta della salute. Stasera ti propongo la quinta giornata della Salman 9 o anche detta comunque Fit 9. È un quinto giorno ottimo, è tutto facile da seguire. Il quinto giorno è come il quarto dal punto di vista prodotti, assunzione e cibo. L'energia è ben ritrovata, riesco a fare tante cose. Stasera addirittura ho seguito una zoom di formazione con una qualità superiore e che altro? I prodotti si usano. Ciao!